Buonasera, benvenuti e benvenuti al primo incontro del ciclo di lezioni di letteratura Mondadori Education 2022-2023. Prima di introdurre la relatrice che abbiamo il piacere di invitare e ha l'onore di aprire questo ciclo, due informazioni tecniche per chi si collegasse per la prima volta in questa stagione. Questa lezione dà diritto a un attestato di partecipazione. L'attestato sarà disponibile nei prossimi giorni nel sito dell'editore alla pagina Attestati, dunque www.mondadorieducation.it La lezione resterà disponibile e potrà essere rivista e anche usata in classe nel canale YouTube dell'editore e i materiali, in particolare le slide che la relatrice userà per la sua lezione, resteranno disponibili sempre nel sito dell'editore alla pagina Archivio, quindi www.mondadorieducation.it Per poter avere l'attestato, questo è importante, qualora non possiate seguire la lezione o veramente la lezione in diretta, in streaming, sarà necessario che la vediate, che la seguiate collegandovi con il link ricevuto nella mail di conferma entro la mezzanotte, 23.59 di questa notte, dopodiché potrete ovviamente rivederla tutte le volte che vogliono. Ultima informazione, quella a cui l'editore, a cui noi tutti teniamo di più, potrete interagire con la relatrice ponendole delle domande direttamente, domande che io le girerò, scrivendo nella pagina tuadomanda.it al codice e scegliendo come codice 1480, lo vedete in sovrimpressione accanto a me, quindi codice 1480 e potete scrivere direttamente le vostre domande. Direi che le informazioni sono tutte qui, introduco quindi con grande piacere la relatrice, la professoressa Orsette Innocenti, eccola, buonasera Orsetti. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Orsette Innocenti è insegnante di materie letterarie negli istituti, all'Istituto Santoni di Pisa, che è tecnico professionale, allieva della scuola normale di Pisa e laureata in materie letterarie, che si è occupata nella sua formazione di letterature comparate e tra la sua produzione saggistica mi piace ricordare la biblioteca inglese di Fenoglio pubblicata da Vecchiarelli e la letteratura giovanile pubblicata da Vecchiarelli. La professoressa si occupa di letteratura di resistenza, letteratura concentrazionaria, fa attivamente formazione docente e insomma è un esempio della migliore tradizione della scuola italiana della didattica militante. Questa sera Orsette Innocenti ci parla, per usare una bellissima citazione, di Calvino, del libro che la nostra generazione voleva fare, adesso c'è, letteratura, amore e guerra, in una questione privata di Fenoglio. Lascio la parola alla professoressa Innocenti, noi ci vediamo dopo per le vostre domande. Grazie. Grazie a Duccio Canestri, grazie all'editore che mi ha proposto appunto questa possibilità e soprattutto grazie a tutti i colleghi e le colleghe che sono qui anche se attraverso lo schermo. È un grande piacere per me poter parlare di un romanzo così importante per la letteratura italiana del Novecento come una questione privata e di un autore che il canone adesso persino scolastico in parte inizia a considerare importante e che diciamo invece fino all'ambire della fine del secolo scorso, agli anni Novanta del Novecento, era ancora stato oggetto di una storia personale, letteraria ed editoriale piuttosto controversa o complessa quantomeno. Una questione privata rappresenta, se vogliamo, così entriamo anche magari subito nel vivo della nostra lezione, una questione privata, dicevo, rappresenta da questo punto di vista proprio un esempio massimo di quello che ho accennato adesso, cioè il fatto che per l'appunto Fenoglio è un autore che è stato oggetto di una grande fortuna, ma sicuramente controversa e soprattutto postuma. Da questo punto di vista possiamo infatti dire che Fenoglio è in tutto e per tutto un vero e proprio autore postumo. Infatti lui stesso, che pure due cose considerava importanti avere fatto nella vita, lo scrittore e il partigiano, terminata, è Fenoglio è di classe del 22, quindi diciamo appartiene proprio a quella generazione che è nata letteralmente insieme al fascismo e per la quale poi l'adesione alla resistenza diventa un atto profondamente politico ed esistenziale di scelta. diceva appunto, Fenoglio una volta ritornato dopo il 45 nel dopo, quello che lui stesso nei suoi rimanzi definirà il dopo, proverà in tutti i modi a scrivere della sua esperienza e a scrivere anche del luogo in cui avviene questa esperienza. Fenoglio è profondamente legato alla geografia di Alba e delle Langhe, che è dove ha trascorso sostanzialmente tutta la sua vita, con la parzialissima eccezione degli studi universitari a Torino che ha fatto comunque da pendolare, diremmo al giorno d'oggi, quindi un autore geograficamente e storicamente profondamente connotato. E questa connotazione storica e geografica, Fenoglio nel dopoguerra, terminata l'esperienza partigiana, la vuole porre in ogni modo nella scrittura e in una scrittura che per Fenoglio, in questo ci sono moltissime lettere che lui scambia con molti intellettuali del tempo che molto spesso sono stati come lui scrittori e partigiani, dicevo appunto che in moltissime lettere Fenoglio sottolinea proprio, si capisce molto bene che a lui non basti scrivere per sé, per lui scrivere vuol dire pubblicare, per lui scrivere vuol dire parlare di un'esperienza, di alcune esperienze, dell'esperienza, la resistenza e parlarne a un pubblico vasto, parlarne a quell'Italia del dopo. Per questo il titolo di questa lezione, il libro che la nostra generazione voleva fare, è una definizione dell'ultimo libro scritto da Fenoglio, pubblicato anche il suo posto, ma c'è una questione privata, ma è una definizione che in realtà si adatta sostanzialmente a tutta la produzione resistenziale di Fenoglio. Fenoglio è quell'autore che per Sineddo, che davvero per figura retorica, rappresenta in tutto e per tutto tutto quello che si può dire per esprimere il concetto profondo di adesione e scelta resistenziale del periodo dei venti mesi, quello che va dall'8 settembre del 43 al 25 aprile del 45. In questo uso la categoria di scelta ed è un elemento interessante che io trovo che si possa ben adattare anche per spiegare in generale tutto il paradigma della resistenza. Uso, dicevo, la categoria di scelta secondo la definizione che ne ha dato lo storico Claudio Pavone in un libro del 1991, chiaramente le date non sono casuali perché, ripeto, sono gli anni in cui Fenoglio finalmente emerge da tutta questa sua controversa ricezione. Claudio Pavone nel 91, in questo libro, in questo grande corposo saggio che si chiama Una guerra civile, parla proprio della scelta e della moralità nella resistenza. E Fenoglio rappresenta esattamente questo, l'idea di una scelta esistenziale che si fa politica in modo necessario e in modo profondamente, appunto, morale. Non è un caso che Claudio Pavone, lo storico che ha scritto questo libro, sia stato a sua volta storico e partigiano. Quindi, in questo caso, non come Fenoglio, che è stato partigiano nelle formazioni badogliane, quindi nelle formazioni monarchiche, Pavone invece è stato partigiano nelle formazioni di giustizia e libertà, è un azionista, un aderente al partito d'azione. Ma quello stesso afflato, quella stessa tensione verso la scelta, viene espressa in maniera argomentata e con tutte le prove, diciamo, le documentazioni del caso nel libro di Pavone, ma trova una sua rappresentazione intuitiva, intuitiva nei libri di Fenoglio. Eppure, quando Fenoglio prova, appunto, a mettersi in contatto con le varie case editrici e parte subito col botto, parte con Einaudi, per far pubblicare le prime prove che lui ha fatto, che riguardano in qualche modo la sua esperienza partigiana, le cose non vanno troppo bene. Lo vediamo qui dalle slide, le opere pubblicate in vita da Fenoglio. Fenoglio muore a 41 anni, muore a 41 anni di enfisema polmonare, nel pieno ancora della sua tensione scrittoria. I libri, lo vedete, dall'elenco sono pochissimi. Abbiamo un primo libro pubblicato rispetto al canone resistenziale, anche piuttosto tardi, perché sono passati sette anni e in quel settennio di libri sulla resistenza ne vengono fatti e come, nel 52, ed è la raccolta di racconti I 23 giorni della città di Alba, che è una raccolta di racconti che pone insieme una metà esatta di racconti a tema partigiano, legati alla resistenza nelle langhe, in particolare intorno alla città di Alba. Il titolo viene dall'esperienza della Repubblica Partigiana di Alba che durò semplicemente 23 giorni nel 44. L'altra metà della raccolta, invece, sono racconti, diciamo, a tema langarolo, quelli che un po' impropriamente potremmo definire in maniera un po' riduttiva neorealisti. Sicuramente è una definizione che non contraddice il tono di questi racconti, ma l'ingabbia probabilmente un po' troppo. Nel 1954 viene pubblicato questo romanzo breve che si chiama La Malora, che è completamente di tema langarolo, di nuovo usando appunto tutto l'ingabbiamento di questa definizione, diciamo pure, del filone ancora in parte neorealista. E poi bisogna aspettare il 1959 e un cambio di editore. Questi primi volumi che ho citato sono per Einaudi e arrivano a essere pubblicati per Einaudi nella prima metà degli anni 50 con una fatica nera, per usare parole di Fenoglio, nel senso che Fenoglio proporrà la sua prima proposta, è un altro romanzo che si chiama La Paga del Sabato, che l'editore considera non adatto. Nella raccolta di racconti verranno proposti una serie di riassemblamenti. La Malora ha una sorte discreta, però ci sono sempre recensioni ambivalenti che accompagnano l'uscita di questi libri. E nel 1959, Primavera di bellezza, è un romanzo breve pubblicato con l'editore viceversa Garzanti, in cui per la prima volta Fenoglio riesce a pubblicare un romanzo partigiano. Il romanzo a tema partigiano racconta la storia di un protagonista che si chiama Johnny, un nome inglese, come inglese sarà anche il nome dell'altro protagonista dei romanzi partigiani, cioè Milton, poi sono la stessa persona, John Milton. Questo protagonista Johnny, Primavera di bellezza, lo segue dalla sua prima esperienza nel regio esercito, quindi prima dell'8 settembre, fino poi ai giorni dell'8 settembre alla decisione, al fortunoso ritorno nelle Langhe. Johnny si trova a Roma nei giorni dell'8 settembre, descrive molto bene nei capitoli finali il tutti a casa, il famoso tutti a casa in cui in qualche modo chi riesce a tornare, riesce a tornare per fortuna con aiuti da parte dei civili, nascondendo la divisa, tutto quello che riguarda appunto lo sfaldamento del regio esercito che avviene all'indomani dell'8 settembre. Decide poi Johnny, una volta riarrivato ad Alba, la sua città natale, che nel romanzo viene chiamata con un nome in codice perché Fenoglio tende quasi sempre nei romanzi pubblicati a nascondere i nomi reali e poi dopo quando torna a casa decide di aderire, insomma di andare in montagna, di non presentarsi alla leva di coscrizione e muore nella prima azione partigiana. Quindi Primavera di bellezza racconta questa storia di un partigianato scelto caparbiamente ma molto presto finito, molto molto presto finito. Poi ancora dobbiamo ricordare nelle 63 l'anno stesso della morte la raccolta Un giorno di fuoco che è una raccolta che rielabora anche qui una serie di tematiche che sono anche in treccia diciamo sicuramente la tematica Langarola con un'altra tematica che sottotraccia e spessa a cuore di Fenoglio che è quella degli antenati. La raccolta Un giorno di fuoco recupera alcuni racconti che in una prima versione Fenoglio voleva chiamare i penultimi, intendendo come ultimi quelle della sua generazione, quindi i penultimi sono i suoi antenati. La parola antenati è importante, anche l'anno è importante. Ricordiamoci che un altro autore con cui Fenoglio si confrontava molto nel 1960 pubblicava una raccolta che si chiama I nostri antenati, Calvino che pubblica appunto, che raccoglie in volume la sua trilogia fantastica di Visconte, di Mezzato, Barone Rampante e Cavaliere inesistente e poi muore. Muore mentre sta riscrivendo ossessivamente altre tematiche partigiane, altri romanzi partigiani. E quindi le opere, quello che succede poi dopo che Fenoglio muore, lascia una copiosissima quantità di scartafacci nella sua scrivania, spesso non capiti, non messi a posto, non coltivati con cura, attenzione e spolveratura come potrebbe essere a Casa Leopardi, per capirsi. E in mezzo a questa massa di scartafacci, a un certo punto nel 68, un studioso, giornalista e studioso Lorenzo Mondo, scopre una grande porzione di un romanzo non finito, scritto con moltissimi inserti in lingua inglese, che si chiama Il Partigiano Johnny. E infatti viene, e con questo titolo diciamo che lui chiama, anzi mi correggo, Il Partigiano Johnny, quindi un titolo redazionale, glielo dà Lorenzo Mondo. E nel 68 esce la prima edizione del Partigiano Johnny, è un'edizione in cui Mondo mette ampiamente le mani per selezionare come assemblare questo materiale e poi diciamo affidiamo a questo punto la storia del Partigiano Johnny a un'altra storia che verrà raccontata un'altra volta, che diciamo vede moltissime riedizioni e anche riassemblaggi derivati dal fatto che appunto l'ultima volontà dell'autore di certo non c'è. Nel 63, prima di questa scoperta, era uscito invece, sempre postumo, sempre per Garzanti, il romanzo Una questione privata. Il titolo Una questione privata non è fenogliano, è anche questo un titolo redazionale. Viene detto in molte interviste che lui, Fenoglio, parlava di questo romanzo parlandone anche come di una... si parla di una questione privata, quindi il titolo è stato messo da questo punto di vista anche basandosi diciamo su una serie di testimonianze orali, però appunto anche in questo caso non è titolo suo e anche in questo caso il romanzo, e andiamo nel vivo della nostra analisi del romanzo, difetta, non ha l'ultima revisione e l'ultima volontà dell'autore. Di che cosa parla Una questione privata? Allora, come vi dicevo, in Primavera di Bellezza, il romanzo pubblicato, noi abbiamo questo protagonista che si chiama Johnny che muore appena inizia la sua scelta di adesione alla resistenza. Quello che ci può essere utile per capire come nasce questo nuovo partigiano, io qui ho scritto da Johnny a Milton e da Milton a Milton, vediamo di capire perché. Allora, è utile una lettera che adesso si può leggere pubblicata nella raccolta pubblicata da Inaudi di tutte le lettere di Fenoglio, è una lettera all'editore Garzanti. Abbiamo detto Fenoglio ha cambiato editore perché appunto si è sentito non particolarmente ben voluto dall'editore Inaudi. È stata celebra una recensione durissima, insomma molto ambigua e quindi per questo durissima e anche un risvolto di Vittorini alla Malora che diciamo lo aveva lasciato parecchio perplesso. Cosa scrive a Garzanti Fenoglio? Scrive, come forse citati li avrà accennato, la morte di Johnny nel settembre del 43 mi libera tutto il campo resistenziale. Ho potuto istituire il personaggio del partigiano Milton che è un'altra faccia più dura del sentimentale e dello snob Johnny. Il nuovo libro, anziché consistere in una cavalcata 43-45, si concentrerà in un unico episodio, fissato nell'estate del 1944, nel quale io cercherò di far confluire tutti gli elementi e gli aspetti della guerra civile. La lettera è molto interessante, notiamo tante cose su cui potremmo soffermarci, ne segnalo solo alcune che anche qui possono costituire un utile elemento per parlare insieme di storia e letteratura ed educazione civica. Il primo è alla fine guerra civile. La parola guerra civile, quella parola che in realtà negli studi storici per parlare della resistenza verrà sdoganata letteralmente dal libro di Pavone che ho citato prima, nella consapevolezza dello scrittore partigiano Fenoglio è assolutamente la norma, è una categoria storiografica già introiettata. Quindi quella guerra è stata una guerra civile a tutti gli effetti. L'altro elemento che vediamo, che è molto interessante, è il fatto che Fenoglio, diciamo dal punto di vista proprio della costruzione dell'intreccio, dichiara di cambiare scelta. Mentre l'idea che aveva avuto sul partigiano Johnny, idea poi stoppata dal fatto che appunto anche qui editorialmente Garzanti gli dice il libro è troppo lungo, taglia, taglia, quindi lui lo fa morire Johnny, però la sua idea originaria era stata quella in realtà di fare una cavalcata dei tutti i venti mesi. Invece qui Fenoglio cambia. Pensa a un episodio solo nell'estate del 44. L'estate del 44 vuol dire, per chi ha fatto la resistenza nelle langhe, quel momento che segna poi lo snodo principale e la differenza tra chi fa il partigiano sotto la linea gotica e chi fa il partigiano sopra la linea gotica. Perché l'estate del 44 vuol dire la liberazione di Roma, la liberazione di Firenze, vuol dire la liberazione di tutto il centro Italia e poi cozzare con la linea gotica dell'Appennino. Non è un caso, siamo proprio al 4 ottobre, quindi in questi giorni dal 29 settembre al 4 ottobre sono proprio i giorni della strage del Montesole, quella che è impropriamente storiograficamente conosciuta anche come strage di Marzabotto. Le grandi stragi della linea gotica si situano tutte su questo arco temporale ed è quell'arco temporale che banalmente per chi ha fatto il partigiano sotto la linea gotica significano un ritorno a casa, la fine della guerra. Per chi fa il partigiano come Fenoglio ad Alba nelle Langhe in Piemonte significano un altro lunghissimo inverno, quindi moltissimi mesi in più di un'esperienza devastante. Fenoglio sceglie quindi un episodio di quell'estate, un'estate storicamente molto significativa e sceglie di chiamare il suo personaggio di nuovo con un nome che rimanda al poeta John Milton, quindi in modo ancora più esplicito rispetto a Primavera di bellezza, è il nome di battaglia chiaramente Milton, quindi evocando immediatamente un legame profondo con la letteratura inglese, letteratura inglese che Fenoglio ama moltissimo da sempre. Ora poi ne parleremo alla fine un po' di quali sono gli agganci contestualizzati proprio a questo specifico libro, perché in questo una questione privata ci consente di nuovo persino eddoche di far vedere come l'amore, l'anglofilia di Fenoglio, l'amore per la lingua e la letteratura inglese possano irradiarsi da un romanzo alla caratteristica dell'autore nel suo insieme. Dicevo appunto, sceglie questo nome, lo stesso nome e decide che il personaggio sarà più duro e sarà protagonista di un unico episodio, non sarà più sentimentale, non sarà più snob, sarà qualcos'altro. È questa una questione privata? No. In realtà è un altro romanzo ancora che è pubblicato, è legge, è pubblicato posto, ma ovviamente la sua struttura completa è stata ritrovata soltanto nel 1996, si chiama L'Imboscata, ed è interessante come romanzo di passaggio, ma adesso noi lo lasciamo da parte. Perché quello che succede è che effettivamente L'Imboscata, chiamiamolo col suo titolo redazionale, è costruita, come dice Fenoglio, un unico episodio attraverso il quale, attraverso anche una serie di flashback, si raccontano episodi tipici della Resistenza. Ma Fenoglio non è convinto. E quindi passiamo alla lettera un anno dopo, 8 marzo 1960. Avevo già scritto 22 capitoli dei 30 previsti dell'impianto del romanzo, quello a cui faceva riferimento prima. D'improvviso ho mutato idea e linea. Mi salto in mente una nuova storia, individuale, un intreccio romantico, non già sullo sfondo della guerra civile in Italia, ma nel fitto di detta guerra. Questo è l'atto di nascita che noi conosciamo di Milton di una questione privata. L'8 marzo del 1960 noi possiamo dire, da alcune parole chiave, l'intreccio romantico, la storia individuale nel fitto della guerra civile, che abbiamo i tratti essenziali che caratterizzano una questione privata. Allora, di cosa parla appunto in questo una questione privata, in questo intreccio romantico nel fitto della guerra? Una questione privata parla di un triangolo amoroso, una questione privata parla di un partigiano nel pieno dell'autunno del 44, quindi nel pieno di quell'inverno, di quell'autunno che caratterizza soltanto alcuni partigiani, che completamente dedito alla causa della resistenza, improvvisamente per colpa di una deviazione improvvida, si trova durante una perlustrazione davanti alla villa che era la villa che lui frequentava prima della guerra, la villa dove era ospite una sfollata di Torino, Fulvia, che il partigiano Milton aveva amato di un complicatissimo amore totalmente platonico e totalmente letterario. Un amore fatto di inviti alla villa da parte di Fulvia che chiedeva a Milton di continuare a regalarle continuamente traduzioni da grandi classici inglesi, però poi dei quali discuteva con Milton, ma quando si trattava poi di fare magari qualche piccola festa, quel piccolo ritrovo clandestino dei giovani albesi che si ritrovavano nella villa di Fulvia, questa sfollata di Torino, quindi borghese, quindi piena di fascino, in tanti modi molto bella, in realtà Milton non lo calcolava proprio e ballava con tutti tranne che con lui, dimostrava diciamo una attitudine sociale con tutti gli altri giovani tranne Milton che aveva solo questa funzione letteraria. In particolare davanti alla villa di Fulvia Milton entra, ritrova la custode della villa e dalla custode apprende che in realtà di nascosto Fulvia si vedeva col migliore amico di Milton, Giorgio Clerici. Giorgio Clerici, migliore amico, anche lui partigiano, in un'altra brigata e improvvisamente traditore. Traditore perché la custode sembra rivelare un amore consumato tra il grande amore platonico di Milton e il suo migliore amico. E a quel punto Milton, come Orlando, impazzisce. Impazzisce e in preda alla furia più totale, lui il partigiano che era sempre stato solo ligio al dovere della resistenza non ha che uno scopo nella sua esistenza immediata. Quello di andare da Giorgio e chiedergli la verità. Lui ha bisogno della verità. Sei stato con Fulvia? Sì, no. Ma Giorgio è stato catturato quella stessa mattina dai fascisti. Comincia quindi una caccia di Milton prima a Giorgio, poi ha la possibilità di trovare un fascista che possa scambiare con Giorgio, ma non per salvarlo in nome della causa della resistenza. È una caccia solitaria perché Milton vuole Giorgio per parlargli e che lo porta in giro per varie avventure, vari presidi partigiani e lo porta anche a un certo punto a essere la causa involontaria della morte di due staffette partigiane. Perché Milton riuscirà a catturare un fascista in questa sua caccia solitaria e lo rassicurerà mentre lo porta con sé dicendogli che non gli farà del male perché gli serve vivo per scambiarlo. Il fascista non si fiderà, tenterà di fuggire e Milton lo dovrà uccidere sparandogli. Nella caserma dove Milton è riuscito, nei pressi della quale Milton è riuscito a catturare il fascista, la morte di questo fascista verrà punita con la uccisione, con la fucilazione di due staffette partigiane. Quindi in questo abbiamo un elemento molto importante perché questo avviene al capitolo 12 dei 13 di una questione privata, è il capitolo nel quale in maniera inequivocabile si apprende che essere da soli nella guerra è qualcosa che non paga. La guerra di resistenza è una guerra di tutti, non si può essere individualisti, non si può fare una storia individuale come dicevamo prima. Tra l'altro è particolarmente interessante, questo anche qui è molto utile nell'ambito di una lezione costruita su una questione privata, perché il capitolo 12 è l'unico capitolo che non è a focalizzazione interna dal punto di vista di Milton. Quindi Milton non sa qual è la conseguenza del suo gesto singolo, ma il lettore sì e quindi in qualche modo questo viene riportato dal punto di vista dell'orizzonte assiologico di valori a un orizzonte superiore. Non sono più gli occhi di Milton che guardano la resistenza, ma sono gli occhi di tutti che guardano la resistenza, sono gli occhi di chi della resistenza ha la consapevolezza di quel valore morale di cui parlava Claudio Pavone. Per questo è molto probabile che questo intreccio così complesso che mescola davvero amore e guerra, l'amore complicato letterario per una persona che non compare mai in scena, perché ne Fulvia e ne Giorgio compaiono mai in scena, ma è l'ossessione di Milton e nello stesso tempo per questa tematica invece di così profonda moralità, se deragli paga qualcun altro, se deragli non paghi tu, se deragli paga qualcun altro, che una questione privata diventa davvero il simbolo di tutto quel magma di esperienze, di valori, di elementi che caratterizzano la scelta di chi alla conta dei fatti era giovanissimo, perché appunto per la generazione di Fenoglio di cui Milton è in qualche modo alter ego, come abbiamo visto generazione degli anni venti, sono nati e cresciuti col fascismo e per usare un'espressione molto felice di Italo Calvino, l'entrata in guerra ha coinciso con l'entrata della vita, sono diventati grandi andando in guerra. Ed è proprio Calvino che nel 1964, a un anno dalla pubblicazione di una questione privata, ripubblica il suo romanzo resistenziale Il sentiero dei nidi di ragno e definisce appunto una questione privata il romanzo di una generazione. Leggo alcune parti, soprattutto leggo le parti sottolineate. Calvino inizia dicendo appunto che Fenoglio ha continuato a fare ricerca diciamo sulla possibilità di rappresentare letterariamente la resistenza e c'è arrivato senza nemmeno riuscire a finirlo e a vederlo pubblicato ed è morto prima appunto di avere questa soddisfazione. E poi in questa parte della prefazione al sentiero, alla ripubblicazione del sentiero dei nidi di ragno dice il libro che la nostra generazione voleva fare adesso c'è e il nostro lavoro ha un coronamento e un senso e solo ora grazie a Fenoglio possiamo dire che è una stagione compiuta, solo ora siamo certi che è veramente esistita. La stagione che va dal sentiero dei nidi di ragno a una questione privata. Ed è poi lo stesso Calvino a richiamare in un'altra parte della prefazione quegli elementi che diciamo raccontando la storia anche così brevemente saltano un po' agli occhi pensando a un percorso di letteratura italiana che sono quegli ariosteschi. Quindi abbiamo Milton davvero novello Orlando sicuramente furioso nel momento in cui scopre che la sua Angelica è andata con qualcun altro. E c'è proprio la furia completa di Milton che è la furia di Orlando fuori di sé. Eccolo qua, ve lo riporto sempre dalla parte della prefazione, una questione privata è costruito con la geometrica tensione di un romanzo di follia amorosa e cavallereschi inseguimenti come l'Orlando furioso. E nello stesso tempo c'è la resistenza proprio come era, di dentro e di fuori, vera come mai era stata scritta, serbata per tanti anni limpidamente dalla memoria fedele e con tutti i valori morali tanto più forti quanto più impliciti. Eccola qui, la definizione del romanzo con tutto quello che serve. La fatica di rinunciare al prima, Fulvia che arriva e irrompe e fa dimenticare tutto, la necessità invece di rinunciare al prima, la consapevolezza del valore morale, la consapevolezza della collettività di questa scelta. E per questo, se vedete appunto il titolo della slide, l'ho intitolato qui lo spettro di Robin Hood. Lo spettro di Robin Hood vuol dire una cosa molto specifica e va proprio a toccare le ragioni della scelta partigiana, che esprime in questo modo così forte, attraverso anche appunto a questo gioco di incastri, di punti di vista differenti, una questione privata. Robin Hood è una definizione che io ho preso in realtà dal partigiano Johnny. Nel partigiano Johnny a un certo punto infatti Johnny viene affrontato da un suo vecchio professore del liceo che si chiama Cucito e che quando Johnny sta decidendo se lasciare casa e andare in montagna, gli fa una sorta di esame di buon partigiano. Questo esame di buon partigiano, Cucito è commissario in una brigata Garibaldi, quindi una brigata comunista, si conclude in modo fallimentare per Johnny perché a tutte le domande che gli fa Cucito lui risponde con risposte che sono troppo individualiste, troppo incapaci di accogliere in se stesso la collettività della scelta partigiana. E Cucito dice a Johnny tu sarai un ottimo partigiano ma sarai per sempre un Robin Hood, un individualista. Quindi Cucito non mette in discussione il valore morale della scelta di Johnny, non dice sei incerto, forse sei mezzo fascista, no, è sicuramente un ottimo partigiano ma troppo individualista e come tale rimarrà per sempre un Robin Hood. Ed è proprio per questo che la definizione Robin Hood a mio avviso si adatta molto bene a essere spesa per il Milton di una questione privata. Un Milton per il quale la scoperta improvvisa del possibile tradimento, tradimento dell'amore letterario, tradimento dell'amore platonico da parte di Fulvia, lo proietta dentro questa invece orizzonte di azione del Robin Hood, incapace di agire se non per se stesso. E in questo Fenoglio chiama in causa, proprio come dice Calvino quando dice ci sono tutti i valori della resistenza in quel romanzo, chiama in causa proprio l'idea della scelta come chiara e difficile, che sono le parole che usa proprio Claudio Pavone, che avevo ricordato prima, per parlare della scelta partigiana. È una scelta che non pone dubbi e nello stesso tempo pone tutta la difficoltà del mondo nella necessità di allontanarsi da casa, lasciare tutto. E da questo punto di vista per Fenoglio quella scelta è insindacabile. E in questo possiamo accostare a Fenoglio le parole che aveva usato Giammi e Pintor nella celebre lettera in cui comunica al fratello Luigi Pintor la sua scelta di passare nelle file partigiane. Pintor era stato un grande intellettuale di casa Einaudi, persona appunto intellettuale ai limiti dell'intellettualistico, raffinatissimo traduttore dal tedesco, saggista. Personaggio quindi quanto di più lontano si possa immaginare da un partigiano immerso nel fango fino alla cintura. Cosa che lui dice in questa lettera? Dice penso che sarò un pessimo partigiano, tuttavia è l'unica possibilità che mi offerte la accolgo. E poi aggiunge, sempre in questa lettera, lo vedete qui, è la conclusione naturale di quest'ultima avventura, ma soprattutto il punto di arrivo di un'esperienza che coinvolge tutta la nostra giovinezza. Di nuovo l'idea della giovinezza e della scelta come qualcosa che si legano per questa generazione per cui entrata in guerra e entrata nella vita coincidono. Allora, se il romanzo di una generazione intera, e vedete che in questo Calvino e Pintori in qualche modo si rimandano a vicenda, il libro che la nostra generazione voleva fare adesso c'è, il punto di arrivo di un'esperienza che coinvolge tutta la nostra giovinezza, stiamo parlando dello stesso orizzonte morale, dello stesso orizzonte di riferimento. E allora, dicevo, è tempo di pensare a quanto una questione privata possa essere utile anche per aprire uno spaccato intertestuale di tutto il contesto della letteratura italiana di quel periodo. Per la letteratura italiana che forse appunto non può stare soltanto ingabbiata in quell'etichetta che evocavo prima del neorealismo. E in particolare è forse utile allora ricordare a alcuni modelli che possono essere utilmente essere accostati a una questione privata. Questi modelli possono andare, diciamo, sotto due grandi categorie. La prima è quella della letteratura della memoria. La letteratura della memoria è una definizione sempre del solito Calvino, che oltre a essere un grandissimo scrittore è anche un saggista puntualissimo. nel 1954 Calvino raccoglie in una raccolta tre racconti che vengono pubblicati da Inaudi col titolo L'entrata in guerra e sono quei tre che vedete. L'entrata in guerra, gli avanguardisti a Mentone e le notti dell'Umpa. Sono racconti che raccontano appunto di un protagonista molto molto giovane nel 40, al momento dell'entrata in guerra in Italia, avanguardisti a Mentone, quindi al momento di nuovo della partecipazione al regio esercito e qui la memoria corre al Johnny di Primavera di Bellezza. E poi le notti dell'Umpa sono appunto le notti che i giovani universitari della protezione antiaerea svolgevano per controllare che tutto funzionasse durante il coprifuoco. Sono giovani dell'età di Johnny, sono giovani dell'età di Milton, sono giovani dell'età di Calvino e di Fenoglio. Non del PIN del Sentiero dei Nidi di Ragno. Calvino quando scrive il suo romanzo decide invece di usare un personaggio che è molto più giovane di lui proprio nello sguardo. E quindi nell'entrata in guerra in qualche modo Calvino costruisce un orizzonte di percorso, di avvicinamento poi alla scelta resistenziale, non c'è resistenza nell'entrata in guerra, che è molto simile a quello che è stato quello del Milton, di una questione privata che noi non conosciamo se non attraverso dei brevi flashback quando Milton rievoca il suo tempo di prima con Giorgio e Fulvia, ma anche del Johnny di Primavera di Bellezza. Quindi l'importanza di sottolineare come tutto un tessuto di modo di vivere precedente poi alla guerra abbia portato poi questa generazione per la quale entrata in guerra e entrata nella vita coincidono a scegliere di andare in montagna, a scegliere la parte della resistenza. L'altro elemento che ci può aiutare, l'altro romanzo scusate, che ci può aiutare all'interno della letteratura della memoria è Il Giardino dei Finzi Contini che è pubblicato nel 62 e quindi è anche molto probabile che abbia esercitato ben più di un eco sul momento di progettazione e scrittura di Fenoglio, da parte di Fenoglio di una questione privata. Anche qui abbiamo un triangolo amoroso e anche qui abbiamo un triangolo amoroso, abbiamo in questo caso il triangolo è Nicole protagonista e Malnate e in questo triangolo amoroso anche qui abbiamo un protagonista che è convinto di intrecciare, di aver intrecciato con la protagonista Nicole un rapporto privilegiato che anche questo è estremamente letterario, intellettualistico e poi invece la scoperta del tradimento di Nicole e della consapevolezza appunto che la protagonista preferisce poi all'amore appunto platonico, comunque intellettuale, quello invece è la consumazione di un amore ben più reale con personaggi più solidi, concreti. Quindi anche qui per quanto riguarda la letteratura della memoria abbiamo questo bel legame su cui costruire dei bei percorsi tra una questione privata e il giardino dei Finzi Contini. L'altra direttrice è invece sul concetto di raccolta. Il concetto di raccolta che ci rimanda a quello che dicevo prima, a quella passione di Fenoglio per i penultimi, per gli antenati. Quindi nel 60 come ricordavo esce in raccolta i nostri antenati la trilogia fantastica di Calvino, Visconti di Mezzato, Barone Rampante e Cavaliere Inesistente. Allora Fenoglio in un'altra lettera a Garzanti, mentre descrive sempre il processo di scrittura di quella che diventerà una questione privata, parla del fatto che una questione privata è caratterizzata da una colonna sonora che è quella della colonna sonora del mago di Over the Rainbow. E anche in questo caso ricordiamoci che Primavera di Bellezza è un romanzo che ha anch'esso un titolo che parla di una canzone fascista che è Primavera di Bellezza. Non appare dunque improbabile che Fenoglio pensasse ad alcuni suoi romanzi, non il partigiano Johnny che era un blob che in qualche modo aveva abbandonato, come qualcosa da poter raccogliere in un domani parlando in qualche modo di una trilogia che andava non con lo stesso protagonista ma con le stesse tematiche, un po' come nella trilogia dei nostri antenati, dal Reduce, il famoso La Paga del Sabato che era stato rifiutato da Enaudi, al partigiano Milton, scusate, al soldato del regio Johnny nel Primavera di Bellezza, al partigiano fino alla fine Milton. E quindi questa è un'altra linea che si potrebbe approfondire. Concludo brevemente segnalando anche una cosa importante che riguarda quella che chiamiamo la biblioteca inglese di Fenoglio che va a coprire appunto tutta l'anglofilia che è anche di una generazione di nuovo, l'anglofilia che è anche una marca prettamente antifascista come sappiamo e in questo caso Fenoglio oltre a utilizzare l'inglese come lingua privata, non è una lingua che lui usa per pubblicare, attenzione quando noi troviamo la lingua in inglese la troviamo perché non c'è l'ultima volontà dell'autore, ma viceversa i suoi romanzi sono infarciti di confronti intertestuali con test inglese. Qui vi ho messo un breve elenco dei modelli romanzeschi di una questione privata, Cime Tempestose della Bronti col Triangolo Amoroso, da cui è il film anche che ne viene tratto, Fenoglio scrisse una breve pièce teatrale su questo, Il Mago di Ozzo, qui non c'è Triangolo Amoroso, c'è appunto l'aspetto romantico e questa idea del lontano dietro le nuvole, qualcosa che accadrà dopo e poi tutti i racconti di protagoniste, tutti i racconti di Poe oppure la poesia di Browning, Evelyn Hope e la poesia di Yeats che parlano di sostanzialmente protagoniste morte o lontane o impossibili da raggiungere, quindi di un amore rimpianto e di un amore come ossessione. E su questo diciamo che quest'idea dell'amore ossessione, dell'amore rimpianto unito alla scelta resistenziale che non deve essere abbandonata per la follia di Orlando, ci porta all'ultimo punto che è un punto aperto da trattare in classe, come finisce una questione privata? Una questione privata finisce con una parola, crollò, di fronte a quel muro di alberi crollò Milton e questo crollò è stato interpretato in vari modi. Quello che noi possiamo, su cui possiamo ragionare è il significato non solo diciamo così di evento del crollò, quindi se questo crollare possa voler dire un morire, un morire alla resistenza, un essersi reso conto di quello che è successo oppure avere ceduto completamente alla follia amorosa. Ci sono varie interpretazioni su questo. È interessante costruendo un percorso in cui si parla di amore e guerra in questo modo sollecitare nella lettura di una questione privata in classe anche un'interpretazione motivata sulla base del percorso di Milton di cosa possa voler dire questo crollare. E io mi fermerei qui per ora in modo da lasciare spazio anche alle domande e poi eventualmente posso approfondire vari punti. Grazie della lezione Orsette, grazie di anche dare spazio alle domande che effettivamente sono arrivate e dalle quali vorrei immediatamente partire. Una nota di nuovo in pratica molto veloce, la professoressa Innocenti è disposta e qui può confermarcelo a rispondere anche eventualmente ad altre domande, ulteriori domande che non stessero nello spazio di questa sera direttamente per mail, privatamente e anche a condividere materiali che eventualmente possano risultare interessanti e da lei citati. Dico bene, vero? Sì, appunto la lettera di Pintor, la prefazione di Calvino, ma in generale appunto anche materiali che io ho già assemblato per percorsi in classe che posso condividere o comunque condividere un percorso eventualmente. Ecco, effettivamente è stata molto apprezzata l'attenzione che tu hai dedicato, Orsette, ai possibili percorsi, possibili collegamenti. Allora, senza dilungarci, così riusciamo in qualche modo a rispondere anche alle altre. Arriva una domanda da chi ci ascolta su possibili collegamenti e io lo farei soltanto in termini di suggestioni, non in termini di sviluppo, con l'educazione civica, che, come dire, dialoga molto strettamente, molto congiuntamente in questo caso specifico del tuo argomento con la letteratura italiana. Uno spunto per tutti? Allora, un paio, sempre per suggestioni. Il primo sicuramente è recuperare, andare a recuperare quel concetto di guerra civile. Quindi l'idea della guerra civile, legandola anche alle altre due guerre, la guerra di liberazione e la guerra sociale, però l'idea della guerra civile come qualcosa già consapevole negli scrittori e quindi legandola all'idea della scelta. Quindi l'educazione civica si può collegare perché la maggioranza, diciamo collegandolo proprio al periodo costituente, tutta la resistenza avviene già nel periodo costituzionale transitorio in qualche modo e quella scelta resistenziale, quell'idea del collettivo, quell'idea che non si può essere Robin Hood ma mediare attraverso le varie sensibilità è quella che poi va a convogliarsi in maniera molto articolata nell'elaborazione poi della Costituzione. Quindi questo è il primo spunto. Guerra civile è scelta come fondanti proprio del nucleo di gestazione della Costituzione, scusate la rima. L'altro elemento si può invece collegare anche proprio all'idea dell'educazione civica, qui diciamo si potrebbe fare un collegamento un pochino più di lato, però l'importanza dei luoghi della resistenza e quindi andare a recuperare tutto l'elemento che riguarda questa... l'ho fatta vedere nelle slide ma non l'ho letta, me ne scuso. Nella prima slide si parlava proprio della... Fenoglio in una pagina di diario diciamo parla della sua lapide e dice che vorrebbe le parole scrittore e partigiano. E quest'idea della lapide rimanda in qualche modo anche all'idea delle lapidi, della resistenza che vengono... di cui viene cosparsa l'Italia con un'azione profondamente civica di Piero Calamandrei e diciamo al contributo altrettanto lapidario in metafora che questi scrittori della resistenza, la generazione degli anni difficili, la generazione dell'entrata in guerra che coincide con l'entrata della vita vuole fare in quel periodo con grande forza per costruire in qualche modo allo stesso modo quello stesso ipertesto resistenziale dalla lapide di parole, dalla lapide di pietra, dalla lapide di parole. Quindi questi potrebbero essere due percorsi. Quest'ultimo io l'ho fatto a partire da un altro romanzo di Fenoglio dell'Imboscata poi allargandolo anche a una questione privata. Era molto interessante perché per citare gli studi di Pier Norà ma per recuperare la tua idea della letteratura della memoria sui luoghi della memoria, tra i luoghi della memoria ci sono nel dopoguerra anche i sacrari partigiani, insomma, come i luoghi in memoria degli eccidi. In parte hai risposto quindi a una domanda che io ti leggo molto velocemente e dimmi se, o meglio di a chi ci ascolta, se sei d'accordo o meno. Quindi leggo, non sono io che reinterpreto. E' possibile che nel 63 Fenoglio abbia ormai ben rielaborato la vera inconsistenza della cosiddetta guerra di resistenza che ai suoi occhi non è altro che una guerra civile di cui non c'è nulla da amitizzare, nulla di epilico da celebrare. L'unico modo di narrare quella sciagurata guerra è solo una prospettiva privata e, tra parentesi, sullo sfondo rimane, e Fenoglio lo ricorda molto bene, la polemica tra Togliatti e Vittorini, il rifiuto di quest'ultimo di suonare il bifero della rivoluzione. Questa è un po' si allontana da quanto tu dici adesso, ma vorrei sentire che cosa ne pensi. Allora, sicuramente nel 63 Fenoglio non ha fatto altro effettivamente nella vita, quindi ha riflettuto moltissimo sul concetto di guerra civile e per lui è già dato. Da questo punto di vista diciamo che l'elaborazione sicuramente avviene, ma è già data all'inizio, perché quando lui nel 49 propone la famosa raccolta di racconti, quella che poi viene pubblicata col titolo I 23 giorni della città di Alba, lui le aveva proposto come titolo racconti della guerra civile. Quindi lui, la chiarezza c'era a Damantina ed è Vittorini a cambiare il titolo, è Vittorini a volere come titolo quello semplicemente del racconto eponimo, del primo racconto che apre la raccolta. Quindi da questo punto di vista sicuramente non sono certa, pensando proprio a quel capitolo così duro, così secco, così inequivocabile, che è il capitolo 12 di una questione privata, che Fenoglio pensasse di poterla raccontare solo in prospettiva privata. Perché in qualche modo sicuramente una questione privata, ci sono 12 capitoli su 13 che lo dicono, parla dal punto di vista di Milton. Però il capitolo in cui si parla della morte ingiusta e gli occhi di Milton non ci sono più ed è molto chiaro anche nelle parole quando Riccio, il più giovane che viene messo qualcosa, urla mentre lo stanno per fucilare, nelle sue parole c'è proprio in qualche modo l'accusa di questa ingiustizia, che è un'accusa che il lettore rimbalza puntualmente su Milton. E poi c'è l'ultimo capitolo, faccio un pochino più lunga perché ne ho parlato un po' meno. In questo capitolo, il famoso crollò, abbiamo Milton che vuole ritornare alla villa perché spera di avere qualcosa almeno dalla custode, perché Giorgio non l'ha potuto incontrare. La villa gli sembra sempre più brutta, mentre nei ricordi era bellissima, c'è una cartina di pioggia gli appare desolata ma anche in disfacimento e poi a un certo punto lui viene in coccia alla pattuglia dei fascisti, inizia a correre come un pazzo, passa attraverso un paese e c'è una frase molto importante, lui passa il paese e poi torna indietro perché vuole farsi vedere, vuole farsi vedere da qualcuno, ha la necessità di essere riconosciuto. Quindi in qualche modo c'è un rientro nella visione degli altri, lui fino a quel momento, da quando ha visto la villa per la prima volta, fino a quel momento non ha più visto nessuno e non si è fatto più vedere da nessuno e poi crolla e può essere che sia scampato, può essere che sia stanco, può essere che sia morto. Ma quel ritorno a farsi vedere dagli altri, a mio avviso può essere interpretato un po' come è interpretabile anche la fine di altri romanzi di Fenoglio, per esempio appunto La paga del sabato, quello che un critico, Franco Moretti, ha definito la retorica del troppo tardi, cioè il protagonista ritorna all'orizzonte ideologico corretto, passatemi il termine, ma troppo tardi e muore. O comunque, quindi c'è un riconoscimento della parte giusta, ma nello stesso tempo esistenzialmente c'è una punizione. Quindi mi pare che qui la dialettica pubblico-privato sia più complessa in qualche modo. Certo, allora ti leggo che cosa scrive sempre chi ci ascolta, di nuovo sono parole che leggo direttamente, espressioni come, e qui andiamo forse di nuovo al finale, espressioni come la mente riprese a funzionargli, era perfettamente conscio. Potrebbero far pensare al rinsavimento, e qui ovviamente c'è dietro in filigrana insomma l'Orlando di Ariosto, ma in realtà la chiave di Caldino. Nel finale quindi Fenoglio recupererebbe così il senso della scelta morale e politica offuscata dall'eros e dal sospetto del doppio tradimento subito. Tu che ne pensi? Sono assolutamente d'accordo. A mio avviso quelle parole non sono casuali, tra l'altro in qualche modo anche qui c'è in filigrana una parte, è molto interessante perché c'è in filigrana proprio un rimando intertestuale con il romanzo La disfatta di Fadiyeyev, però che in certi passi è proprio riportato quasi letteralmente, ma quella parte sulla lucidità, sul perfettamente conscio, sono parti proprio aggiunte da Fenoglio e a mio avviso c'è proprio questo rinsavimento, questa restituzione del senno in senso orlandiano e quindi della dimensione morale della resistenza. Credo di sì. Poi chiaramente con tutti i dubbi che un romanzo complesso, cioè appunto i grandi romanzi suscitano domande e non danno risposte, quindi con tutti gli interrogativi lasciati aperti da un grande romanzo come questo. Senti, leggo ancora, allora c'è una domanda che si richiama a un tuo cenno fatto all'inizio della tua lezione sull'uso proprio in proprio o con qualche correttivo del concetto di neorealismo. La domanda è questa. Un romanzo come una questione privata, con elementi così spiccatamente privati, può essere definito neorealista e se sì oppure no per quali motivi? Forse è necessario chiarirlo visto che arriva come domanda da chi ci aspetta. Allora, diciamo così, sicuramente ci sono degli aspetti neorealisti esattamente che fanno parte di quel profondo contesto culturale in cui Fenoglio opera e quindi tra l'altro non dimentichiamo Fenoglio ha una cultura e una passione cinematografica fortissimi, quindi da questo punto di vista lo scambio intertestuale è tra vari tipi di testi. Quindi da quel punto di vista quell'aspetto privato, l'aspetto diciamo di far soffermare l'occhio su un singolo protagonista, tutta una serie di vicende così come anche nei romanzi e nei racconti più propriamente Langaroli che poi appunto c'è. Oltretutto altro elemento che in qualche modo dialoga profondamente col neorealismo è proprio quello del paesaggio, quello di un ambiente che è un altro protagonista molto molto forte. Nello stesso tempo però in qualche modo gli elementi in più sono da un lato questa parte che abbiamo chiamato la letteratura dell'entrata in guerra per citare Calvino, non perché in una questione privata parli dell'entrata in guerra, però questo aspetto generazionale così forte che è la generazione di Pintor, la generazione di Calvino, la generazione della scelta e quindi in questo c'è un elemento che va sicuramente oltre. E poi l'altro elemento che dobbiamo ricordare è che qui insieme al dialogo con i modelli neorealisti contemporanei a Fenoglio in Italia c'è un dialogo intertestuale altrettanto profondo con la letteratura ottocentesca inglese e con quell'uso connotatissimo del paesaggio che abbiamo per esempio in Emily Bronti e anche in parte in Thomas Hardy che è un altro autore che sicuramente dobbiamo ascrivere alla geografia letteraria di Fenoglio e sono entrambi autori nei quali appunto per esempio tutta questa dotazione profondamente di realismo paesaggistico come quasi un protagonista ulteriore è fondamentale. O come anche il rapporto con gli antenati in qualche modo. Certo. Ecco, allora visto che sono arrivate un paio di domande che però richiederebbero un discorso troppo ampio cioè sulla come dire sulle letture sulla biblioteca inglese di Fenoglio fondamentalmente ma siccome è stata davvero molto apprezzata e ti ringraziamo questa tua capacità di offrire delle parole chiave durante la lezione per cercare di inquadrare appunto l'opera e l'autore. Se tu dovessi scegliere delle parole chiave per connotare in qualche modo il rapporto di Fenoglio con la letteratura inglese. Hai citato l'amore ossessivo. Sì, allora. O quante ne vuoi. A me viene in mente per esempio anche l'idea di memoria. Però, insomma, sei tu però che ti tieni la... Allora, sicuramente l'idea di memoria è molto forte e importante soprattutto nella parte poetica. Per esempio penso alla poesia di Browning ma anche alla poesia di Yeats. La parola forse più di tutto che a me viene in mente però è la categoria del romance. Il romance inteso come il modo romanzesco, quindi quell'elemento che non è un vero e proprio genere ma è un elemento che diciamo costituisce l'elemento antitetico andando proprio a spannissime dell'idea del romanzo di formazione di Moretti, tesi, antitesi, sintesi. Quindi l'elemento antitetico dell'eroe del romanzo di formazione che deraglia e deroga da quella che è la pista a cui è destinato dalla famiglia e di solito per vivere una serie di avventure individuali che sono romanzesche di tipo appunto avventuroso o amoroso. Il romance è proprio la categoria che caratterizza tanto le cime tempestose della Bronti quanto la geografia delle passioni di Thomas Hardy in modo veramente molto molto forte. E in qualche modo questo elemento del romanzesco ritorna anche declinato nella sua declinazione, modulato nella sua declinazione più da racconto fantastico anche nei racconti di Poe che sono racconti comunque sia in cui ci sono elementi romanzeschi di questo tipo più sul soprannaturale. Io lì ho citato Morella perché è quello che Milton traduce per Fulvia. Ricordiamoci anche che peraltro Poe era stato l'oggetto della tesi di laurea di Fenoglio. Fenoglio si è laureato su Poe con Federico Olivero che era professore di letteratura inglese a Torino quindi diciamo da questo punto di vista c'è anche un po' di repertorio in questo. C'è uno studio che lui ha fatto anche per la tesi però sicuramente questo elemento del romanzesco, del romance lo direi come forte. Poi sicuramente memoria che hai detto tu e poi quello che aggiungevo, geografia e anche la tempesta nella questione privata che ha un significato sia di richiamo alla Bronti ma anche proprio questo paesaggio che è terrificante cioè appunto è continuamente piovoso, fangoso, sono coperto di fango dentro e fuori dice a un certo punto Milton. Quindi anche questo elemento potrebbe essere. Grazie quindi, grazie molto Orsetta. Direi che abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ricordo quindi che la professoressa Innocenti risponde anche ad altre eventuali domande che voleste porle in sede privata eventualmente anche riguardando e riflettendo insomma su questa davvero bellissima lezione di cui ti ringraziamo, Seth. Ricordo a chi ci ascolta che il ciclo si apre con questa lezione e che dunque troverete i prossimi incontri nel sito dell'editore e in ogni caso ne sarete informati e il prossimo incontro sarà in novembre e non mi resta che ringraziare ancora la professoressa e augurare a tutte e tutti una buona sera. A presto. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie a tutti.